La crisi europea, anzi mondiale, per cui noi come gli altri soffriamo di una carenza di risorse finanziarie dovuta ai tagli che lo Stato ha effettuato. L'amministrazione con una politica accorta è riuscita a realizzare anche su Cervinara una spending review che ci ha portato a non incidere sulle tasche dei cittadini, tant'è che per quanto riguarda l'Imu noi abbiamo applicato una tariffa minima rispetto agli altri comuni come pure per quanto riguarda le tasse sulla spazzatura che a Cervinara sono inferiori rispetto alle altre comunità. Abbiamo realizzato diverse cose, abbiamo riaperto la scuola media che era inagibile da diversi anni abbiamo realizzato una serie di opere pubbliche sul territorio, la viabilità e tante cose ancora. Per il 2013 diciamo che noi siamo riusciti a trovare diversi fondi che ci consentiranno di realizzare una molteplicità di opere a iniziare dal palazzetto dello esport al completamento della scuola di via Sangosma alla realizzazione di un centro polifunzionale sulla scuola media e un motivo di soddisfazione è anche l'aver completato l'iter burocratico per la ricostruzione degli alluvionati tant'è che proprio pochi giorni fa sono cominciati ad arrivare i primi buoni contributi per le persone che ne hanno diritto e quindi potranno iniziare il cantile. Vedremo anche quindi avviata la ricostruzione. E in ultimo poi vi è anche il discorso delle zone russe che è stato approvato in comitato tecnico alla regione Campania necessita solo della presa d'atto del comitato istituzionale dopo di che andrà anche questo in realizzazione e quindi consentirà di liberare gran parte del territorio comunale dai vincoli delle zone russe quindi si potrà attuare il piano casa e quant'altro tanto possibilità ai cittadini di muoversi anche nel settore edilizio. Bene, un suo saluto alla cittadinanza di Cervinare soprattutto un augurio da parte del sindaco. Allora io faccio tanti auguri a tutta la comunità cervinarese augurandoci tutti quanti insieme di superare questo grande momento di crisi a detta degli esperti è un momento che è uno dei peggiori se non il peggiore dal dopoguerra in poi però vi è una ragionevole speranza di pensare che comunque ci sarà un momento di ripresa economica si parla che questo dovrebbe avvenire dal mese di luglio in poi dell'anno prossimo per cui auguro a tutti i cittadini e a noi che amministriamo la cosa pubblica di poter dare ancora ulteriori e maggiori risposte a tutta la comunità.